jay dobbiamo parlare di una cosa molto importante è qualcosa che ha a che fare con i pinguini giusto non dirmi che non hanno le ginocchia altrimenti stanotte non ci dormo no jay si tratta di marcos mio cugino esatto perché non me l'hai detto prima dici dei pinguini del fatto che marco servito di jay concentrati tu sei il cugino di marcos ok il suo concerto stasera e se qualcuno molto vicino a lui per esempio suo cugino avesse i biglietti io gliene sarei per sempre grata ho capito cosa sta dicendo no scusa ho capito allora tu sei il cugino di marco se mi tra i biglietti per il suo concerto ok calmati ho capito ce l'ho i biglietti grande ok però devi promettermi che mi dirai sempre la verità promessa ma dove mi ha visto un pinguino con le ginocchia sì o no è stato un pinguino con le ginocchia sì o no